Si avvia alla conclusione la trentesima stagione agonistica della Cestistica Licata che continua a ottenere prestigiosi affermazioni a livello regionale. La formazione Under 15, guidata da Peppe Lanzerotti, ha infatti centrato l'accesso alla fase regionale battendo dopo una gara vibrante il Grotta Calda di Piazza Armerina con il punteggio di 74-67. Ora i giovani gialloblu si incontreranno con la vincente del girone Palermo-Trapani in due gare di andata e ritorno che decideranno chi approderà la semifinale regionale. Da sottolineare che il giovane Alberto Carità continua intanto ad essere regolarmente convocato nei raduni regionali di categoria. Altro grande successo per la squadra Esordienti, nati nel 2002-2003, allenata da Adriano Ancona. I giovanissimi atleti licatesi hanno infatti centrato con due giornate di anticipo l'accesso alla fase finale regionale che si disputerà nel mese di giugno a Siracusa, vincendo con merito il proprio girone di qualificazione. A questi due importanti successi vanno aggiunti i due ottimi secondi posti nei rispettivi gironi nelle categorie Under 17 e Under 13. I Under 17 guidati da Peppe Lombardo, seppur con una squadra nettamente più giovane rispetto alla categoria, hanno lottato fino all'ultima giornata trascinati da Francesco Pintacrona e Davide Rapidà, sfiorando il miracolo della qualificazione alla fase regionale. A queste splendide affermazioni vanno aggiunte la finale regionale del Joint Game con le ragazze dell'Under 13 e la partecipazione alla Jambor regionale nella categoria Esordienti Femminile in rappresentanza della provincia di Agrigento. Una menzione particolare per il fiorente settore minibasket curato con grande attenzione dall'istruttrice Roberta Lanzarotti che ha vissuto una grande stagione disputando numerosi incontri e tornei.